Oggi impareremo il baccarà. Ti dirò tutte le cose sul baccarà, in modo che tu possa giocare facilmente al baccarà. Il baccarà è un semplice gioco di indovinelli, si tratta di scommettere su quale delle due mani ti viene distribuita. L'obiettivo del gioco è avere una mano più vicina al 9, rispetto all'altra. Il baccarà è un gioco di carte da casino in cui i giocatori scommettono su quale delle due mani pensano che segnerà il punteggio più alto. Baccarà può essere giocato con un solo giocatore, o fino a 14 giocatori. Hai tre opzioni quando giochi a baccarà. I giocatori piazzano una scommessa sullo spazio del giocatore, del banchiere o del pareggio sul tavolo. La vincita per gli spazi giocatore e banco, è di uno a uno. Obiettivo. L'obiettivo è avvicinarsi il più possibile a 9 carte, senza superare i giocatori per indovinare correttamente quale delle tre possibili proposte, vincerà al turno successivo, giocatore, banco o pareggio. Permette di capire i valori delle carte. 9 hanno lo stesso valore nominale. 10, Jack, Regina, Re, hanno valore 0. Gioco. Una volta che ogni giocatore ha puntato, sul tavolo vengono distribuite due mani di due carte ciascuna, una per il giocatore, e una per il banco. Tutti al tavolo giocano con queste due mani. Le carte da 2 a 9 valgono il valore nominale. I 10 e le figure valgono 0 e gli assi valgono 1. I valori delle due carte in una mano, vengono sommati per determinare il punteggio per quella mano. Ad esempio, se al giocatore è stato distribuito Re e 7, il suo punteggio sarebbe 7. Se un punteggio è di due cifre. La cifra di sinistra viene eliminata. Ad esempio, se le due carte nella mano del banchiere si sommano a 15, l'uno verrebbe eliminato e il loro punteggio sarebbe 5. Chi ottiene il punteggio più? Capiamo la vittoria naturale. Se nelle prime due carte distribuite, il punteggio totale è 8 o 9 per il giocatore o per il banco, si parla di vincita naturale e il gioco è finito. Ad esempio, il totale di due carte del giocatore è 0,6 e il totale di due carte del banco è 9. Quindi in questo caso il banco vince il round per vincita naturale. Regola della terza carta. Se il punteggio del giocatore è compreso tra 0 e 5, riceve una terza carta. Se il punteggio del banchiere è da 0 a 2, riceve una terza carta. Il valore della terza carta viene aggiunto al loro punteggio. Chi segna più vicino a 9 vince. Se la mano del giocatore vince, il giocatore viene pagato 1 a 1. Se la mano del banchiere vince, il giocatore viene pagato 1 a 1 meno una commissione del 5%. Se c'è un pareggio, la scommessa sul pareggio paga 8 a 1. Questa è una panoramica di base su come giocare a Baccarat. Con un po' di pratica e conoscenza delle regole, puoi divertirti con questo entusiasmante gioco d'azzardo. Abbiamo anche realizzato un video per imparare la strategia e i suggerimenti vincenti del Baccarat. Il collegamento è stato fornito nella casella della desk. Spero che il video ti sia piaciuto. Se ti è piaciuto, non dimenticare di mettere mi piace a questo video. Per altri video iscriviti al nostro canale MG Games. Non dimenticare di premere l'icona Grazie. 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 Grazie.